Chi è la sposa? Non si sa. Sul certificato di matrimonio c'è scritto Arlen Machiavelli. Ma è falso. Noi l'abbiamo chiamata la sposa per via del vestito. Si vede bene che è incinta. Solo un cane rabbioso può aver sparato in testa una ragazza così carina. Guardala. Capelli color grano, occhi grandi, un angioletto imbrattato di sangue. Figlia numero uno? Si. Questa apertica succhiacazzi è ancora viva.